Questa mattina conferenza stampa del neoletto sindaco di Ponte Cagnano, Faiano, Giuseppe Lanzara, che ha ricevuto anche i ringraziamenti telefonici del governatore della campagna, Vincenzo De Luca. Un distacco di quasi 2000 voti e circa 300 voti guadagnati rispetto al primo turno. Una vittoria che dà un segnale importante a questa città. Sì, una vittoria che dà un segnale importante, che dimostra che gli apparentamenti, gli accordi sotto banco non servono. Serve invece un progetto politico serio, credibile, leale nei confronti dei cittadini. Fra le prime chiamate che ha ricevuto c'è anche quella del governatore De Luca. Ci può dire che cosa le ha detto? Ci siamo scambiati gli auguri, avremo modo per parlare dettagliatamente di quelle che sono le azioni da mettere in atto, dei fondi da recuperare e da chiedere per investire su questo territorio e per portare Ponte Cagnano, Faiano, ai primi posti della provincia di Salerno. Il primo provvedimento che approverà come sindaco? Mi auguro di poter approvare le cose più concrete e ordinarie, quelle che riguardano appunto anche le periferie, e ristabilire un minimo di dignità da alcuni territori che sono completamente abbandonati e che vivono in condizioni da terzo mondo. Ha già un'idea della sua giunta o è ancora prematuro? No, è ancora prematuro, sinceramente non ci ho pensato. Ci sarà adesso il tempo necessario per mettere in piedi un'aggiunta di qualità, di livello e che possa rappresentare al meglio tutti i territori della nostra comunità.